Quest'anno il Pride sarà solo online e molti sostenitori non saranno per strada. Per fortuna, per strada, abbiamo trovato… altri sostenitori. Sì, sì. Sono contrario. Lo ripeto, non le condivido. Sì, non c'è molto. Sono contrario, basta. A me va bene che stiano… non faccio né maleducati per strada. In casa si può fare di tutto, ma vuori no. È vizi, vizi e sesso. Esatto! I sostenitori sono proprio loro, ma ancora non sanno di esserlo. Durante la Pride Week abbiamo chiesto di scegliere fra mascherine con i colori del Pride e altre con fantasie diverse. Alcune persone hanno scelto la mascherina arcobaleno. Ovviamente non le persone viste prima. Loro hanno scelto le altre. Va bene, dammi un'altra. Facciamo questa qua. Quello che ancora non sapevano è che anche queste rappresentano bandiere della comunità LGBT+. E così, contenti della loro mascherina, i nuovi sostenitori del Pride hanno diffuso il nostro messaggio per le vie di Milano. Parlo di ciò che conosco… Grazie a tutti